oh buongiorno ragazzi oggi inizio della settimana in bici ho appena iniziato ad andare a pedalare oggi ci facciamo un giretto così provo la gopro sulla bicicletta e vediamo dopo un giorno di riposo come ho la gamba oggi bellissima giornata caldo anche uno spettacolo per iniziare questa settimana adesso andiamo in direzione andalo siamo arrivati quasi all'ultimo pezzo questo è un po siamo pedalabile adesso inizia l'ultimo pezzetto questo tra il controvento e la pendenza un po più ripida sto pezzo mi massacra però dai meglio delle 18 ore va benissimo qui ci arrivano le bellissime montagne oggi che è il primo giugno anche un sacco di moto guarda che spettacolo un po freddo un sacco di macchine oggi anche se fosse il 2 giugno due ciclisti e grigiappo ciappoli ciappoli questi sorpassati adesso andiamo a molveno dopo san lorenzo e dopo vedremo così lo fare un altro ciclista e che sorpasso scattino adesso iniziamo la discesa verso molveno vai al massimo 60 lorenzo e prodattori 60 lorenzo e prodattori guarda che motorone adesso ho pedalato tranquillo fino a san lorenzo e abbiamo qua dopo discesa e dopo di nuovo pianura oddio al suo piano e dopo monte arche e da lì deciderò che ce l'ho a fare intanto siamo nell'ombra più scura tra polveno e il lago di nebbia però si sta bene e anche freddo tra l'altro questi posti qua a lombra sono un po più freschi ma questa giornatona oggi c'è proprio una bella giornata ma proprio bella bella eh un sacco di moto guarda che meraviglia insieme mamma mia che voglia oh dai ola amici improvvisi adesso è meglio il pedale un po' tranquillo sono giocotto madonna prova la panorama qui siamo per entrare a san lorenzo in mezzo alle montagne e dopo galeria un'altra discesona un abortone giù a tutta sentite che cambiate su in posizione saltino allora qui siamo allo stop sui pedali curva larga spingiamo su questa su a tutta su al passone ormai ci sta tornante remi in batta via di nuovo sui pedali adesso direzione ponte arche ciao adesso direzione fiave andiamo su con un altro passo tranquilli i beati quando arrivo a fiave mi piace il mio bel panino con la nutella accesa che la sona la prima salita per arrivare a campo lomaso quasi fatta dopo avremo un po' di pianura per arrivare verso tumiaga e dopo di nuovo salita verso fiave ancora 3 km moto 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 calma lomas madonna fatica aria qua anche fiave l'abbiamo raggiunto adesso arriviamo alla fontana mangio mio panino con la nutella fatto da recuperare un po' di forza e dopo continuiamo il giro mamma mia fatica fiave adesso andiamo in direzione ponte arche la piccola discesina dopo c'è una salitona abbastanza ripida per 61 tendenza del 10% guarda che cielo che panorama azzurro caldo sta bene adesso facciamo questa mitica discesa ci sarà anche qualche piano qualche salto vai a tutta spingi robi spingi vento superiore salta cross giù a tutta posizione adesso ragazzi faccio ponte arche stenico c'è una salita ripida per 2 km 3 km circa con me muoio sto già morendo adesso oddio oddio sto morendo sui pedali a recuperare un po' comunque mi sembra che questo è il primo giorno che faccio ponte arche stenico di questa stagione devo controllare non mi ricordo più anche se è ripida ultima ponte arche qui siamo stenico ricordate che la facevo in giù sta salita beh era meglio farla in giù è massacrato è proprio massacrato adesso andiamo in direzione di scremo un ghialetto detto stum curva larga bene siamo arrivati a stum adesso pignoni più duri facciamo la giacchetta e giù dalla discesa in occhio fuori come in modo giù giù in posizione cominciamo a tavolo adesso a pianura dopo si sale di nuovo e si sale di San Lorenzo basta salite basta anche il dorsino l'abbiamo raggiunto madame mi nasce un po' guardiamo un dente perchè è veramente ripetabile quel 7-8% ciao Lorenzo adesso iniziamo un po' di pianura falso piano intanto devo rilassare un attimo le gambe adesso è ora finito vale ciao questo rettilineo non finisce più chi va ad un passo abbastanza spedito più la meta sarà sempre più lontana io non capisco e migo ancora l'altro l'altra metà del pane è da mangiare appena arrivo in cima che spiana mi mangio l'altra metà di panino così almeno sono sicuro di arrivare a casa mi sta dando un sacco di energia quel panino mangiato che è prima mamma mia la nutella e il panino abbinamento ottimo direi non è mai un'altra metà di panino è da andare va bene l'abbiamo raggiunto va bene le moto belle moto e ora tutta salita fino ad Andara località Nowic fatta ultima salitella penultima dai Kawasaki un po' di relax per le mie povere gambine comunque intanto siamo quasi a 70 km direi che come prima giorno della settimana va più che bene quasi finito che l'acqua anche ad Andara siamo arrivati non si era nessuno questa mattina c'era più movimento bene spero che questa tipologia di video vi sia piaciuta se è così fatemelo sapere con un bel mi piace qua sotto al video lasciate un commento per dirmi la vostra anche se volete video diversi fatemelo sapere qua sotto in descrizione iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto attivate la campanellina per ricevere le notifiche e noi ci rivediamo in un prossimo video ciao 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 ciao